leggo sul corriere di stamane evasori c'è il rischio carcere salta la norma sulle pensioni torna l'ipotesi dell'iva tutto sotto controllo però aperti a miglioramenti in breve non leggo più il giornale l'amico berlusca in questo continuo turbio modifiche annullamenti le province i comuni sotto mila abitanti eccetera non ci si capisce più nulla e che non ci si capisca nulla noi può anche passare purtroppo credo che non ci capisca più nulla nemmeno lui e lui nel suo governo l'ultimo evasori c'è il rischio di carcere occhio perché se questo provvedimento verrà veramente attuato intorno a lei caro il nostro primo ministro ci rimane due o tre persone e basta tutte le altre dovranno essere costruite le nuove carceri perché non avranno più spazi disponibili per buttare tutti quelli che intorno a lei stanno frodando imbrogliando stanno e come dire qualsiasi cosa abusano del suo del loro potere per imbrogliare per fare i fatti loro arrivederci